Per questa ricetta useremo l'olio grande e fresco di courgette, cubi di mozzarela fior di latte, filetti di mozzarela, l'olio molto caldo, l'olio spaventato, l'olio extravirgino, l'olio di un altro, l'olio di pinnettino, o l'olio di un'olio di un'olio, per la fria. Per avernezzato e ridato le courgette, l'olio di un piste con un po' di piste, l'olio di non rompere i petali. L'olio di piste e l'olio di un po' di piste. Divide ogni filetto di filetto in due parti, e l'olio di un po' di piste. Ora posso stufere le pezze. Ho metto una parte di mozzarela e una parte di anch'io filetto. Ho metto la pezze e la metto. Ho metto anche le pezze. e ho metto un po' di mater. E mettere i pezze e le pezze. E mettere i volio di bottone. E mettere i palmiti in panalo. E mettere i pezze. Le pezze e il pezze ho metto. Turne i pezze e i pezze. water. I don't have to stir the butter for too long, it will be ready when it is smooth enough. I also put some salt in the other flour. I cover the flowers with flour all over the surface, then remove the excess flour. I will dip the flowers in the butter only just before dipping them in the oil. I bring the oil to 170 degrees Celsius, dip the flowers in the butter and gently put them in the oil. The thermal shock between the frozen butter and the boiling oil will produce a fantastic crunchy effect. I turn the flowers from time to time they will be ready after about five minutes when they are golden brown. I drain them and let them dry on a paper towel. I continue until all of them are fried. I recommend to add salt only just before salving them at the table. Let's give it a try and see if they are crunchy. Let's give it a try and see if they are crunchy. Goal achieved! Buon appetito! stop! First guys!